Bergamo dove sei? Scendete! Libertà! Libertà! Bergamo il click day è finito! Scendete! Il click day ci avete nel cervello! Raffanculo loro i monopattini di merda! Volete il bonus per andare in bicicletta? Pedalate! Merde! Libertà! 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 Gauri, 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 gauri. Comunque se un politico non scende a parlare con un umile cittadino ragazzi siamo inguaiati, vuol dire che loro si sentono superiori a noi vuol dire che loro si guardano dall'alto in basso e ci possono spuntarci addosso come stanno facendo ogni giorno perché io l'ho pregato, l'ho pregato e lo sto ancora pregando di poter avere un colloquio, di poter parlare con lui Lavoro! 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 Nessuno deve dormire! È il nostro futuro! Non si dorme senza futuro!